Venezuelo è di due mercati più importanti di turismo per Aruba. Comprievo, noi stiamo prendendo anche di più di 150 mili turisti venezolanos per l'anno. Ora l'anno ha presentato un fenomeno inusuale con noi vicino. Un gruppo motivato per la situazione economica nel paese, è venuto a Aruba praticamente per ponere un po' di euro. Il cambio di una tasa più alta nel paese è un po' lucrativo. La situazione sta causando certo in comunità, ma in un momento non si sta puntando sui messi e si sta davvero un problema. La maggior parte dei visitanti venezolanos non sono parte di una situazione illegale. E' preoccupazione che è in scocci del governo, come una certa decisione equilibrata con il fenomeno. Quando si tratta di un assunto di stranieri europei di Sifinger, da convenzione che il topico di visitare inusuale venezolano, da merece più discussioni. La discussione con la comunità che ti aiuta pone le differenze opzioni di perspectiva. Il governo non si tratta di una decisione corretta, che ti rende conto con l'interesse di tua gente. Va a cominciare per non olvidare cosa è il mercato che significa per il nostro turismo. Non si tratta di un punto di vista turistico. Venezuela è di 2 mercati, 3 sei turisti per il nostro paese. Durante il nostro paese, la baja, il nostro gruppo di tempo con Bolivar era 50-40 anni di noi, è la baja, ma questo è un mercato importante per il paese Aruba. e il nostro paese, il nostro paese, il nostro paese di turismo, il nostro paese, c'è una quantità di venezolano che si tratta di hotel, c'è una casa che si tratta di condominio, che si tratta di un'interesse di 150-160,000,000 venezolano che vengono per l'anno. Se volete vedere che cosa succede nel ultimo anno qui, vengono quasi 100,000 vengono a circa. Ora, io ho un pollo, per il nostro paese di 100,000 vengono a circa, quanto è il turista che si tratta di hotel, per i 50-60,000 vengono a circa, come che si tratta di hotel, oltre che si tratta di 100,000 vengono a circa, come il turismo che si tratta di una supermercata, come il paese, con il paese di carter, oltre che si tratta di altri tipi di conti, che il nostro paese di scuola in Aruba. Naturalmente, questo è difficile per determinare se il turismo venezolano che arrivano a Aruba, se ci tratta di 100,000 vengono a circa, se si tratta di acqua o no, perché è importante implementare alcun meccanismo di controllo per il visitante di Pazaito. Consequentemente, il Consiglio di Ministro per il visitante di Pazaito 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 quando ti chiede un verlenguo, non si resta la peticione, quindi ti chiede un verlenguo. Non c'è un garantice, nel caso qui. Non c'è un garantice per la famiglia, un po' che mi ha messo la cifra, quanto ti chiede per la famiglia, e ora la famiglia qui non ti chiede per la garantice per il papo. Non c'è una carta di quanta placata ti chiede, se ti chiede meno di 2 mili per la luna, se ti chiede un verlenguo per la luna, se ti chiede come turista, se ti chiede per la entrata, se non ci chiede, il rischio che le persone ti chiede, è più alto. Nella peticione per l'extensione di estadia, Dima si chiede un seguro, una decca di avion per buyback, e copia di passaporti, però ora c'è una cobranza adicinale. Nel momento, durante un anno, non c'è un verlenguo, però non ci chiede per non pagare nulla. C'è un paese nel mondo, che c'è un paese, che c'è un servizio, e è gratis. Non ci chiede, non ci chiede, non ci chiede, se c'è un problema, se c'è un problema, se c'è un problema, se c'è un paese, se c'è un paese, che c'è un problema, Giovanni Muller, notizia buona notizia. Ademàs di extensione, rivea estadia di turismo, Dimas lo ting, lo ting, lo masquear per rivea, eche, cu' persone nanan aqui, por submercado di trabo, cu' extensione turistico, aquí. Un comissio ademà, lo controla tiendenan, pa' no emplea a persone nanan ilegal. Si t'oposito, xona, meseta consiente, cu'emmultenan, lo pica. Grazie a tutti.